Buongiorno Vincenzo Longo dalla Sala Operativa di G. Borse europee in calo alla vigilia della seduta più importante della settimana. Domani i cittadini olandesi andranno alle urne e il testa a testa tra l'attuale premier Rutte e il leader del Partito della Libertà, Bilders, rimane serrato e a lieve vantaggio di quest'ultimo. L'esito è ancora molto incerto e indecisi sono ancora tanti. La crisi diplomatica con la Turchia ha contribuito ad accentuare questa incertezza negli ultimi giorni. L'unica cosa certa è che si andrà verso un governo di coalizione, dato che i voti sono ancora frastagliati tra i partiti che si sono candidati. Sebbene l'esito olandese possa rappresentare la prima vera vittoria per un partito anti-euro nell'Unione Europea, non crediamo che sia il catalizzatore di una crisi dell'area, ma potrà contribuire ad accentuare le spinte populiste in vista poi del voto che si terrà in Francia tra un mese. Ma gli investitori rimangono in attesa anche del rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, la cui riunione inizierà oggi e si concluderà con il comunicato di umani sera. Il tema non è tanto il rialzo dei tassi, dato ormai per certo, ma bisogna capire attraverso i dot plots e le parole della Yellen la view per il resto dell'anno. La sensazione che si percepisce dalla curva dei tassi su segmento a lunghissimo termine è che l'economia statunitense non è ancora pienamente in grado di assorbire una politica troppo aggressiva. Tornando ad oggi, leggermente sotto le attese è stata la lettura dell'indice Zev sulla fiducia degli investitori tedeschi per il mese di marzo, mentre i dati cinesi sono risultati per lo più in chiaroscuro. Ma la notizia più importante arriva dal Regno Unito, dove ieri la Camera dei Comuni ha dato il via libera a definitiva alla legge sulla Brexit, bocciando gli emendamenti dei Lords. La notizia ha penalizzato la sterlina, che stamane ha aggiornato i minimi da due mesi verso l'euro e verso il dollaro e la discesa potrebbe non essere terminata qui. Per oggi è tutto, vi auguro buona giornata e buon trading. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.